La tragedia immane che colpisce delle giovanissime ragazze che, spinte da un'esigenza umana, umanitaria, una speranza di futuro, hanno avuto una sorte irripetibile e indicibile. Noi abbiamo proclamato il lutto cittadino che faremo rispettare quando ci sarà il funerale pubblico che il Comune di Salerno vorrà organizzare presso il cimitero di Salerno. Nel contempo sto studiando insieme agli amici del Consiglio Comunale un'ipotesi di un convegno sui problemi generali dell'immigrazione. Io vorrei che ci si rendesse conto che ci sono delle problematiche globali ed epocali alle quali non si possono dare delle risposte semplici. Come diceva qualcuno, a problemi complessi non esistono risposte semplici. Anzi, diceva meglio, a problemi complessi esistono delle risposte semplici, solamente che sono sbagliate. Quindi un approfondimento per fare in modo che le giovani generazioni, chi ha un atteggiamento di razionalità rispetto agli accadimenti e rispetto alle vicende umane, possa confrontarsi con esperti di settore che possono far capire la reale portata di quanto sta succedendo in Italia e nel mondo. È un atto, credo, dovuto per spostare il tiro dal chiacchiericcio banale a considerazioni probabilmente più severe e più attente. Salerno, città dell'accoglienza, ma proprio da Salerno potrebbe partire una seria riflessione dopo questo tragico evento. 26 donne decedute che arrivano al porto è un caso che apre anche altri scenari. Tristemente è divenuto un caso nazionale. Noi non abbiamo particolari pretese, noi vogliamo fare un ragionamento semplice, ma diciamo approfondito su quanto è successo, ma allargandolo ai temi della contemporaneità, con il concorso delle scuole, di quanti si dispongono in buona fede alla ragione e al ragionamento. Se questo può essere utile anche altrove è un fatto che non può che allegrarci. Noi, oltre agli aspetti quindi del cordoglio, della tenerezza, come abbiamo scritto in un manifesto che credo sia stato affisso, oltre questo abbiamo l'obbligo e il dovere di capire. Tenteremo di mettere un piccolo mattone a questa possibile comprensione degli eventi che affliggono l'intera Europa e l'intero mondo. La cosa che noi consideriamo è che probabilmente abbiamo molte parole per scrivere testi di chiusura, poche invece di apertura. Bisogna richiamare l'attenzione su tutto questo e fare in modo che l'azione del Ministro Minniti, un'azione che non può essere altro che diplomatica, e mi pare che Minniti la sta conducendo in un modo egregio, coinvolga nella responsabilità l'Europa. Ci è stato detto che per il passato l'Italia ha tenuto alto l'onore dell'Europa, ma questa è una pacca sulla spalla. Noi siamo fieri di quanto abbiamo fatto con Frontex, quando abbiamo fatto con Mare Nostrum, ma ora c'è una chiamata in causa, in responsabilità dell'intera Europa, che deve entrare in un meccanismo complicato, ma se siamo una nazione europea ci sono regole e norme che devono unirci tutti in uno scopo comune, che è quello dell'umanità e dell'accoglienza. Io do sempre per scontato, non lo dico come una sorta di mantra, qua noi richiediamo semplicemente come risposta il rispetto pedisseco e rigoroso delle nostre leggi. Per il resto siamo la città che accoglie e dobbiamo essere l'Europa che accoglie, ragionevolmente, con intelligenza, con intelligenza dei fini. E su questo naturalmente, su questo cimento chiamiamo tutti a pronunciarsi.